Come sarà questa nottata? Un po' lunga, diciamo un po' lunga dai. Non è il primo che fai? No, ormai è l'abitudine, diciamo che ormai sono 23 anni che sono qua dalla Fagioli e diciamo che andiamo avanti dai. Le operazioni ce le puoi dire un po' così succentamente? Ma operazioni, non ci sono operazioni da fare, è solo stare attenti agli svincoli e cosa, devono bloccare le strade e basta, tutto qua, non è che dopo devi guidare, stare attento a quello che fai e basta. Dove arriverà il carico? Arriva a Ostiglia giovedì mattina. Lungo viaggio? Tre notti. La velocità massima che toccherai? Stanotte? Cinque, dieci chilometri all'ora. Buon lavoro allora. Grazie mille. Buon lavoro allora. Buon lavoro allora. Grazie a tutti. La prima tappa da qua al parcheggio che si trova a circa 30 km da qui, nella zona di Bastiglia se non sbaglio. Durante il percorso avremo diverse difficoltà tra cui passare sopra il ponte Ciro Menotti a ridosso della Maserati e altri vari interventi lungo la strada che saranno abbastanza complicati. Quali sono le difficoltà tecniche che dovrete affrontare? Il superamento di rotonde, manufatti come ponti, le uscite della tangenziale, abbiamo rimosso i gun rail, altrimenti sarebbe stato difficoltoso uscire. Grazie a tutti. Sì, tanta soddisfazione perché da quando abbiamo terminato il trasformatore sono passati mesi e mesi di attesa. Siamo quindi contenti che finalmente iniziamo questa seconda fase del nostro progetto. Un dettaglio di questo trasformatore, come mai? Quanto pesa? Cosa fa e dove va? L'unità, quando sarà completamente montata, è un'unità da più di 300 tonnellate. Adesso in assetto di trasporto sono 250 più o meno. È un trasformatore che verrà installato in Norvegia, in una centrale della Utilities per la trasmissione dell'energia locale. Non siete nuovi a avventure del genere? No, diciamo che come trasporti eccezionali siamo abbastanza abituati a dover fare di queste cose. Questo è veramente eccezionale anche per noi. Credo che sia uno dei trasporti più grandi mai realizzati in Italia. È stato molto complicato, ma speriamo che abbia aperto poi una strada per altri lavori di questo tipo in futuro. Grazie. 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 Grazie.